Grande festa questa sera a Resana per Matteo Busato, 27 anni, il primo ciclista resanese a percorrere le strade del Giro d'Italia. In forza alla South East, Matteo sogna da sempre questo momento e l'emozione comincia a salire. L'emozione è tanta, è un sogno che avevo fin da bambino, partecipare al Giro. Finalmente si è avverato, sarà una grandissima emozione sicuramente i primi giorni, poi sai, subentrerà la fatica e penserò ad altro. Da buon gregario Matteo correrà per la squadra con un obiettivo però ben preciso. L'obiettivo sicuramente è aiutare la squadra innanzitutto perché abbiamo degli elementi importanti come Pettacchi e Belletti nelle corse veloci e Gavazzi finitano nelle corse miste, quindi potranno puntare a qualche tappa. Io cercherò di aiutare loro prima e poi sarò l'opportunità di mettermi in mostra. Di certo il percorso Matteo l'ha già studiato e sa bene quali tappe potrebbero essere a lui più congeniali. Dalla prima settimana ci sono un paio di tappe adatte. Le tappe in Veneto, sai, mi piacerebbe sicuramente far bene quelle là, però vediamo come ci arrivo e io cercherò sicuramente di dare il massimo sempre in tutte le tappe.